Per esempio, si dice che è un russo avere due camere che fanno la stessa cosa. Questo non è corretto. Abbiamo due camere che hanno gli stessi poteri, ma non fanno la stessa cosa. Sarebbe come dire, per esempio, una sede come questa, che la Corte d'Appello fa la stessa cosa del Tribunale. Ha gli stessi poteri, ma non fa certamente la stessa cosa. Fa una revisione, un controllo, sull'operato del primo organismo uniziale.